Contro la discussa riforma delle BCC, gli istituti di credito cooperativo, scendono in campo anche i sindaci. Per loro è forte il timore che la riforma tolga risorse e investimenti dal territorio, danneggiando risparmiatori, artigiani e piccoli imprenditori. Siamo preoccupati anche di questa, ancora una volta, parliamo di autonomia, ma questo è togliere autonomia se ci portano via anche gli istituti di credito cooperativo. Questo è veramente preoccupante. Le BCC in un certo senso possono costituire un baluardo dell'autonomia calata a livello locale, una garanzia tutela dei risparmiatori e anche dei piccoli comuni. Nonostante quello che è successo con la popolare Vicentina e Veneto Banca, è chiaro che dobbiamo sicuramente stare attenti. Però è il territorio, insomma, è il nostro territorio, lo dobbiamo salvaguardare, soprattutto adesso, perché io ci credo fermamente, è l'unica cosa che ci è rimasta della nostra autonomia. I controlli necessari nell'ottica di una maggiore solidità sul territorio, secondo i primi cittadini, possono essere fatti anche direttamente a livello locale, affidandoli ad amministratori capaci di avere sempre il polso della situazione e di accorgersi, se serve, di campanelli d'allarme e irregolarità. Anzi, vengono controllati sicuramente meglio. Se sei sul pezzo ti accorgi, ma se ci sono altre persone sul pezzo ti devi fidare, ma se ci sono le persone per cui tu hai dato fiducia, è chiaro che hai il ritorno.